ritorno all'appuntamento che fa bene al cuore con le artigiane di artemani ieri 24 novembre il primo appuntamento del mercatino artigianale solidale presso l'abbraccio odv in via fresa 1 a san leonardo di salerno un'occasione per acquistare un dono natalizio realizzato dalle signore del laboratorio artigianale solidale il ricavato andrà a sostegno delle attività dell'associazione che si occupa delle fasce più deboli l'evento di solidarietà sarà abbissato il prossimo 15 dicembre nato nel 2020 il laboratorio artigianale opera con l'abbraccio nel mondo della solidarietà col dubbio intendo di creare condivisione combattendo la solitudine e sostenere attività benefiche un bel lavoro per realizzare tutto questo sì ce ne vuole tanto e soprattutto occorre tanta tanta passione altro appuntamento sarà il 15 dicembre sì esatto il 15 dicembre sempre qui all'abbraccio invito a venire a tutti per trovare un bel gadget ma anche per fare del bene certamente questo è il nostro scopo principale siamo bene insieme c'è tanta soddisfazione a realizzare delle cose che secondo me noi sono belle possono piacere e soprattutto per fare del bene perché ce ne è tanto questo bisogno Grazie a tutti